Arte, cultura e giovani, un binomio che questa mattina si celebra qui a Casa Micciola tra l'Accademia delle Belle Arti ed una struttura che della cultura e non solo dell'accoglienza ha fatto sicuramente il suo leitmotiv da anni. Allora, incominciamo col dottor Mattera. È un'occasione importante per mettere insieme due importanti realtà. Un'occasione importante dove in primis ho trovato una grande collaborazione da parte dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli ma soprattutto ho trovato un grande entusiasmo da parte dei professori che poi hanno trasferito ai loro allievi. Sono stato pochi giorni fa all'Accademia, oltre a fare la visita grazie alla vice direttrice dell'Accademia, ho fatto una visita all'Accademia e hanno fatto una galleria spettacolare, veramente splendida, ho trovato un gruppo di lavoro che sono circa 25 ragazzi, perché questo progetto è nato circa due anni fa, che avevano quasi terminato tutte le opere per l'isola, diciamo così, e devo dire la verità, cose veramente splendide, che noi da giugno potremo vedere. Una cosa che vorrei aggiungere è che la struttura naturalmente e le opere sono aperte al pubblico. Speriamo di vedere tanti ragazzi, tanti giovani, ma anche tante famiglie che portano i propri figli a visitare le opere di questi allievi dell'Accademia delle Belle Arti. Allora, raccontiamole queste opere, questo progetto, almeno in sintesi, per chi vorrà poi venirle a visitare e a visionare. Allora, il progetto nasce appunto due anni fa, a ottobre 2020, con un primo incontro e un primo sopralluogo che abbiamo fatto insieme al dottor Mattera e comunque diciamo che ha vissuto con la pandemia, quindi insomma noi abbiamo lavorato in via progettuale per tutti i lavori. In questo momento, già dal secondo semestre, stiamo lavorando alla realizzazione di tutti i progetti e poi i progetti, insomma, delle opere. Ma la cosa importante è che a partire da giugno, appunto da giugno, da fine giugno, diciamo dalla seconda metà di giugno, i nostri studenti partecipanti al progetto che si chiama Xenia, lo vorrei ricordare perché la radice di questo nome è proprio nel senso di ospitalità che abbiamo trovato da parte di Ottorino Mattera, ma anche da parte proprio dell'isola e nasce anche dal fatto che noi anche ospitiamo in qualche modo l'isola, se vogliamo, insomma, proprio e proprio per questo, insomma, a partire da giugno ci saranno queste mini residenze dei nostri studenti che coinvolgeranno anche la comunità eschitana. Per noi questo è molto importante. Non abbiamo potuto farlo durante la pandemia ed è stato un pezzo importante che ci è mancato. Quindi noi vogliamo, proprio, non abbiamo finito tutto, non abbiamo definito tutte le opere proprio perché ci mancava questo contributo importante da parte della comunità eschitana. Quindi diciamo che a partire dalla seconda metà di giugno noi cominceremo a lavorare con Ischia davvero perché non vogliamo essere, diciamo, considerati gli artisti che arrivano e poggiano un'opera e vanno via. Noi vorremmo che tutti i lavori siano condivisi e siano anche pieni proprio dell'humus che c'è in questo posto che è straordinario. Noi vorremmo che ci sono state di giugno.